Negli impianti elettrici civili i conduttori principali sono la fase, il neutro e il conduttore di protezione. La fase indicata con la lettera L è un conduttore attivo che ha il compito di portare la corrente elettrica all'apparecchio utilizzatore cioè il carico. Durante il servizio ordinario risulta costantemente in tensione 230 volt rispetto alla terra. Quali sono i colori differenti che può assumere? Solitamente sono raccomandati il nero, il marrone o il grigio ma nel caso in cui in un impianto sia necessario distinguere i cavi in base alla provenienza o alla funzione si possono impiegare anche altri colori come il bianco, l'arancione e il rosso. L'importante è che non si utilizzano gli stessi colori della terra e del neutro o colori che possano facilmente causare confusione con altre due categorie di cavi. Il neutro indicato dalla lettera N nel sistema monofase è il conduttore che serve da ritorno per la corrente che arriva al carico tramite il conduttore di fase. È da considerarsi a tutti gli effetti conduttore attivo come quello di fase. Infatti anche se normalmente possiede una tensione rispetto a terra di pochi volt in particolari circostanze potrebbe assumere valori di tensione pericolosi. Ha come colore obbligatorio l'azzurro anche se spesso assume tonalità prossime al blu. Il conduttore di protezione indicato qui in figura della lettera PE svolge la funzione di collegamento imposta dalla norma vigente per mantenere le masse metalliche al potenziale di terra realizzando così una protezione di messa a terra. Il conduttore di protezione è obbligatoriamente di colore giallo-verde. Quando bisogna scegliere la tipologia del cavo da utilizzare si devono affrontare due problemi. Il primo riguarda il valore della caduta di tensione causata dal conduttore e il secondo riguarda il surriscaldamento del cavo stesso. Una caduta di tensione troppo elevata potrebbe ridurre o abbassare la tensione dell'impianto a valori tali da da creare dei problemi al funzionamento degli utilizzatori. Quindi potremmo avere dei problemi per quanto riguarda l'utilizzo di lavatrici televisori e apparecchiature elettroniche. Dicevamo che il secondo problema riguarda il surriscaldamento del conduttore. Purtroppo quando un conduttore scalda si deteriora l'isolante con chiaramente la creazione di correnti di perdita che a lungo andare possono causare il cedimento con eventuali correnti di guasto o di cortocircuito. Da questi problemi nasce la definizione di portata. Cos'è la portata di un cavo? Per portata di un cavo intendiamo quel valore di corrente permanente che determina nel conduttore la massima temperatura di regime sopportabile dell'isolante senza che questo subisca alcun danno e in modo che ne sia assicurata l'efficienza per più di vent'anni. Se osserviamo qui questa tabella notiamo quali sono le temperature massime di esercizio per alcuni dei principali isolanti. Ad esempio la gomma ha una temperatura massima di esercizio di 60 gradi, il PVC 70, il polietilene 90 e la gomma siliconica 180. Chiaramente un superamento permanente di questa temperatura riduce l'attesa di vita della tenuta dell'isolante in modo considerevole. Va detto pure che la portata di un cavo dipende anche dalla situazione di posa, cioè se in aria, se interrato e chiaramente dalle caratteristiche dell'ambiente in cui sarà alloggiato perché anche questi elementi influiscono sulla capacità del cavo di dissipare calore.